Per le spalle Stillaci, l'azione comunque concitata, Voinea, velocissimo, salta, parecchia versata. Voinea, giù, forse adesso ci scappa la munizione, rivediamo, e vedete che in effetti l'irregolarità è chiara, in ritardo, Manicone è intervenuto, è uno di quei falli che si possono catalogare come falli tattici. Per ora i rumeni che hanno il morale altissimo, a differenza degli interisti, vedete, che si chiama Andragi, Voinea, palla fuori, si fa soppiare il pallone da Voinea, attenzione, inferiorità numerica dei difensori.